Una partita che ha avuto anche dei suoi momenti di difficoltà, a cominciare dalla trasferta, giocare fuori casa in campo internazionale, gara secca non è mai semplice, cartellino rosso di Marrochi dopo 4 minuti, più 5 nel secondo tempo, Belgio che però cambia difesa e torna sul meno 1, squadra sempre lucida che davvero l'impressione che arrivava a distanza non è mai stata di una squadra che ha perso la bussola nel corso della partita. Sì, questo è vero e lasciami sperare per il ritorno perché il ritorno sarà una partita dove l'emotività è l'aspetto più importante, gestire quello che succederà in campo senza avere la paura del risultato. Così è stato in Belgio, i ragazzi hanno saputo ben gestire questi momenti e li elogio in maniera particolare perché mancando Marrochi è venuta quella spalla che naturalmente hanno, nel senso che Pablo è il giocatore che ha detto ai tempi soprattutto per l'attacco e ora l'hanno fatto invece Simone, Marco, Mengon, tutti quanti insomma sono stati bravi a fare questo. La trasferta è stata ben organizzata e obiettivamente è sempre difficile vincere in campo internazionale, soprattutto a volte per un fattore arbitrale perché poi in Belgio il pubblico è stato eccezionale, ci ha anche applaudito. Ti aspetti qualche variazione rispetto al Belgio che ha giocato lì, qualche contromossa da parte dell'avversario nella partita che verranno a giocare qua? È chiaro, è chiaro che loro ci devono provare a tutti i costi cercando di analizzare quello che è successo nella partita di andata, a capire quello che ci ha dato più fastidio. Di contro noi faremo l'opposto, cercheremo di prepararci. In realtà questa 5-1 che loro hanno fatto è venuta nel momento dove noi ci siamo un po' stagnati, però non l'avevamo per niente preparata, non avevamo avuto tempo e l'unica cosa da dire in questa prima partita è stata che abbiamo avuto pochissimi allenamenti, per cui ci siamo concentrati solo su alcuni aspetti che riguardava noi e la conoscenza degli avversari, ma non abbiamo potuto preparare tutto lo spettro delle situazioni che si possono trovare. Quindi anche loro faranno la stessa cosa adesso e dobbiamo lavorare bene in questi allenamenti che ci separano dalla partita, come abbiamo fatto con la Turchia, con una grande determinazione, né più né meno. Nessuno più dell'Italia, credo in Europa, conosce bene la differenza tra la partita di andata e la partita di ritorno, ce l'ha insegnato ovviamente quello che è successo nel primo turno contro la Turchia, quindi quattro reti ce le mettiamo in tasca, però forse ce ne dimentichiamo anche un po', è 0-0 domenica pomeriggio. Dobbiamo dimenticarcelo perché poi può capitare a tutti di avere dei break negativi e come li subisci li puoi fare, per cui se l'aspetto, come dicevo prima, emotivo sta nel giusto, noi dovremmo valutare in maniera razionale quello che succede nel campo, dove sono i loro punti deboli, se stanno funzionando i nostri mescanismi, se c'è da cambiare, bisogna ragionare e non bisogna vedere quel tabellone come uno spauracchio. È andata bene con la Turchia perché veramente ci siamo dimenticati del tabellone, di quanto mancasse o di qual era la differenza. Abbiamo sempre dato il massimo sull'acceleratore e questo ce lo possiamo permettere e questo secondo me è quello che mi fa stare tranquillo perché l'esito non dipenderà da uno o due singoli perché ne abbiamo talmente tanti che si equivalgono, se ci sarà una giornata negativa di qualcuno ci sarà sicuramente qualcun altro pronto. Ecco, questo rimane, l'avevi sottolineato anche dopo la prima partita, rimane il punto fermo di questa squadra. 16 giocatori, tutti con la possibilità di essere schierati in campo, tutti che danno il loro, tutti che conoscono il proprio compito e ci sono anche gli infortunati, quindi non sono 16, sono quei 16 ovviamente impegnati in campo ma il nucleo nazionale è ancora più largo. Sì, questa è stata sempre un po' la mentalità che io ho voluto infondere nella mia gestione. Cioè, avendo la fortuna di allenare una nazionale, poter scegliere chi vuoi tra gli italiani, giocatori italiani, per me era importante impostarla in questa maniera e sfruttarla perché poi al di là degli infortuni così solo si può applicare un gioco abbastanza dispendioso ma sicuramente per ovviare anche delle volte che tu non hai i migliori giocatori nelle migliori condizioni. Però ci arriva a questo anche su una fiducia reale che tu dai ai giocatori, non basta dirlo. In molte occasioni ho fatto cambi proprio perché ci credo agli altri giocatori e piano piano i ragazzi sentono questa fiducia e la ripagano. In ultimo ci sarà ovviamente la partita nel campo, poi c'è il fattore ambientale. Giochiamo in casa nostra questa volta, ci sarà il nostro pubblico, è una domenica pomeriggio, ci sono le condizioni partendo anche dal risultato dell'andata e da quello che gli appassionati della pallamano italiana hanno visto alla partita di andata per godersi un bel pomeriggio di pallamano azzurra. Questo è sempre importante, è molto importante soprattutto per l'aspetto arbitrale perché a volte l'arbitro non ti vuole favorire ma non ti dà fastidio quando giochi in casa e non è il pubblico che gli fa cambiare atteggiamento, è un abbrassi che c'è in tutti gli sport. Sicuramente come dicevi il fatto che si gioca di domenica è importante e soprattutto io penso che si è visto anche in tv che spirito ha questa squadra quindi ho avuto un sacco di complimenti più che sul gioco, su questo spirito dei ragazzi che traspare anche attraverso la tv, per cui è naturale voler venire ad aiutarli.